Musica Buonasera e bentrovati all'appuntamento settimanale con Diretta Sindaco, la trasmissione dedicata ai sindaci della provincia di Lucca. Questa sera nostro ospite è il sindaco di Monte Carlo, Vittorio Fantozzi. Buonasera. Buonasera Giglio, buonasera a tutti. Vittorio Fantozzi che è stato rieletto con il 70% delle preferenze addirittura nell'ultimo turno elettorale che l'ha riguardato. Questa sera risponderà alle domande che invierete tramite sms alla nostra redazione, vi ricordo il numero 348 655 97 92. Ma come di consueto partiamo però con la buona notizia che ogni sindaco è chiamato a portarci qui in studio. Ripetiamo sempre che non è il periodo probabilmente più favorevole per le buone notizie, però qualcosa di buono arriva sempre. Allora sentiamo la buona notizia che ci porta Vittorio Fantozzi. La buona notizia è la partenza entro la fine di questo mese, abbiamo l'ultimo incontro con la sovrintendenza il lunedì, un incontro tecnico, la partenza dei lavori di riqualificazione del centro storico del capologo di Monte Carlo con il rifacimento della piazza d'armi. Quindi finalmente il primo passo verso un'infrastruttura per tappe che permetterà di incentivare la presenza nel centro storico e conseguentemente anche di aiutare finalmente i residenti a ritrovare un po' quella pace sociale che viene a mancare quando un paese si sviluppa in senso turistico. È un'opera che siamo riusciti a sviluppare grazie al bando di sponsorizzazione, quindi un'opera dove non è il cittadino questa volta che tramite la tassazione investe sull'opera, ma è stata fatta tramite un bando appunto di sponsorizzazione recepito da una grande azienda nel nostro territorio che si è fatta sponsor e promotrice di questa opera pubblica. Un modo nuovo e innovativo anche se non si vuole di amministrare, mutuato da esperienze del nord Italia, che ha trovato chiaramente una forte ricezione dal punto di vista anche della comprensione di quanto su un territorio sia vantaggioso per un'azienda investire capitale per quanto riguarda la tenuta ambientale e per Monte Carlo chiaramente un grandissimo passo avanti. È un po' l'opera magna che aspettavamo di poter compiere da un anno a questa parte. Sono collegati a questi lavori il discorso del parcheggio personale per ogni residente a Monte Carlo, una notizia che è uscita proprio questa mattina sui giornali. Sì, è in questo senso che stiamo lavorando, cioè da un lato questa piazza d'armi ricomposta e finalmente portata nel XXI secolo, con tutto rispetto chiaramente del vincolo ambientale che abbiamo su Monte Carlo, ma i rapporti che abbiamo con la sovintendenza in questo senso non lasciano dubbi che l'opera sarà fatta come deve essere, permetterà a questa piazza di essere da un lato zona di sosta ma progressivamente diventare una zona per grandi manifestazioni. Il centro storico finalmente sarà reso, fra virgolette, ai nostri concittadini residenti dentro le mura di Monte Carlo e quindi avere la possibilità finalmente alla sera, soprattutto nel periodo estivo, di trovare il posto macchina sotto casa, chiaramente sarà un posto per famiglia, non neanche ci possiamo allargare molto a Monte Carlo in questa fase, e quindi ritrovare, fra virgolette, quel di equilibrio necessario allo sviluppo commerciale. Insomma ci guadagnano tutti, turisti e residenti. Allora, mentre rispondevo alla domanda, alla prima domanda che le ho posto io, sono iniziati ad arrivare già i messaggi con le domande dei telespettatori. Vi raccomando di inviare sms e contenuti corti per poter fare la domanda agevolmente al sindaco che è il nostro ospito. Allora, leggiamo la prima domanda che ci è arrivata. Buonasera signor sindaco, è stata fatta una raccolta di firme da parte dei cittadini per chiedere di illuminare il tratto di strada che dal Turchetto porta a Monte Carlo. Purtroppo la sua amministrazione non ha fatto nulla e quella strada senza dossi è pericolosissima con le auto che sfrecciano senza rispettare limiti di velocità. Deve succedere qualche disgrazia prima di intervenire, grazie un concittadino. Bene, un po' polemica come domanda. In certi momenti non fare nulla quasi è un privilegio, soprattutto quando si tratta di aumentare l'illuminazione pubblica su una via, tra l'altro, che è provinciale, che esiste da sempre e dove la più forte pericolosità viene posta poi dai residenti del territorio di Monte Carlo. Se io dovessi illuminare tutte tattie di strada dove come concittadini ci sfrecciamo a 90 all'ora non basterebbe un lampione ogni 100 metri. In realtà la problematica che si lega per quanto riguarda l'illuminazione della via provinciale sul Turchetto, che è in lavorazione, recesta un investimento che è superiore alle 40.000 euro e in questa fase qui abbiamo privilegiato gli investimenti sulla scuola. C'è stata una problematica sulle scuole recentemente, che dove si è visto un'apertura sul tetto che ci ha portato via un investimento di oltre 100.000 euro e chiaramente in questo caso i lampioni aspettano. E se c'è da investire sulla scuola, aspetteranno dell'altro. Ma si arriva, eh? Perché Monte Carlo non ha aderito alle domeniche ecologiche? La domanda ci arriva da Roberto. Roberto, noi abbiamo aderito all'idea che ha fatto su a Capannori, insieme a Porcari e al Topascio, abbiamo partecipato anche agli incontri che si sono svolti su Capannori. Non avevamo però, fra virgolette, né i dati, né la constatazione che sul territorio di Monte Carlo potesse contribuire, soprattutto per una misura così blanda come è stata quella che poi si è realizzata, la necessità di andare a tal galterne su un territorio come il nostro. Quindi noi siamo al tavolo per cercare di lavorare a delle soluzioni che effettivamente contribuiscono alla riduzione dell'inquinamento atmosferico. Però cerchiamo di farle con un massimo di concretezza e non solamente con fenomeni spot come domenica mattina alle quattro ore, dove magari si può andare tutti in bicicletta invece che girare con la macchina pari o dispari. Insomma vi sentireste un po' ridicoli a fare le targhe alterne a Monte Carlo. Ma non è ridicolo l'argomento, infatti noi lo sosteniamo, abbiamo detto che a Capannorese e a Porcaresi bravissimi, però fare le targhe alterne a Monte Carlo ci sembrava effettivamente un pochino esagerato. Signor Sindaco, una domanda lì la faccio io. Lei nei mesi scorsi, nelle scorse settimane è andato un po' sulla ribalta della cronaca come si suol dire sulla questione della sicurezza. Ci ricordiamo tra dicembre e gennaio un momento di tensione tra lei e un'iniziativa della prefettura. Lei praticamente non andò a fare al concerto, se non sbaglio di fine anno, che venne organizzato in prefettura al Brindisi di fine anno perché c'era un'ondata di furti in atto in quel momento sulla piana di Lucca e lei disse non mi sento di partecipare a una simile cerimonia finché c'è questa emergenza. Intanto le chiedo, l'emergenza c'è ancora? È soddisfatto di come sono andate le cose? L'emergenza c'è ancora, non si è risolta, basta aspettare le cronache per domattina e avremo ancora la situazione che probabilmente si è attenuata. Aspetteremo poi, abbiamo già scritto in prefettura, di conoscere nuovi dati statistici chiaramente distinguendo fra coloro che vanno poi a fare denunce e coloro che non vanno a fare denunce all'arma dei carabinieri, però di fatto in quel momento la situazione era talmente insostenibile che la prassi del solito Brindisi di fine anno, oggi lo rifarei, non mi chiamava assolutamente a voler brindare su niente, come non brinderei assolutamente oggi su niente. E il problema della sicurezza è un problema che è all'ordine del giorno quotidiano. Qui sì che spenderei dei soldi per illuminare, ma solamente ai fini di garantire la sicurezza notturna dei miei concittadini. Sarei prodisposto anche a regalargli dei Bengala, guarda Giglio, proprio uno per famiglia, perché la situazione è completamente sfuggita di mano sotto il profilo proprio, non solamente del controllo, del monitoraggio, perché l'arma dei carabinieri, della polizia, le nostre forze dell'ordine sono l'ultimo baluardo, fra virgolette, fra noi e l'anarchia più completa e totale. Però è il modo in cui la si vuole gestire, e non è solamente colpa chiaramente della prefettura, io questo prefetto l'ho fatto presente. E' un problema a catena che ci accompagna dal livello nazionale al livello locale. Non entro in politica, però la situazione è oggettivamente al di fuori delle parti, fuori controllo. E lei che cosa propone? Io propongo, l'unica cosa che secondo me è fattibile e a breve termine, come è successo poi a dicembre, siamo partiti col treno per fare il corpo dei vigili urbani unico, ma se lo vedremo lo vedremo a dicembre, ma non credo, forse non lo vedremo mai, perché comunque ci sono dei fortissimi distingui fra le amministrazioni, era quello di incentivare e chiamare più uomini sul territorio. Ogni anno si va a togliere e a tagliare nei bilanci della sicurezza di questo paese povero e stramaledetto, che però amiamo che è l'Italia, ma al tempo stesso c'è l'esigenza di avere più uomini sul campo. Più uomini sul campo, più dissuasione, più prontezza di intervento, più perlomeno ce le leviamo per un giorno o due, finché li rimettano fuori, come dicono tutti, ma il concetto poi sostanzialmente è realtà in questo senso, soprattutto quando si dipenalizza, a non avere dintorno gente che non vogliamo dintorno a casa. Soprattutto quando la sera si torna a casa dal lavoro e si dovrebbe trovare la casa non sventrata, da gente di passaggio che ha cercato tutto e ci rovina, tra virgolette, i ricordi anche di una vita e perché no, l'intimità della proprietà che dovrebbe essere un qualcosa di serio, non questo paese per le nostre famiglie. Un'altra domanda che arriva dai telespettatori. Buonasera Sindaco, la strada che porta da San Giuseppe ad Alto Pascio è molto sdrucciolevole e piena di buche. Può essere asfaltata di nuovo? Io ringrazio questo cittadino perché soprattutto ha parlato in termini molto gentili ed educati. Lo ringrazio sinceramente. In realtà la via di San Giuseppe fa schifo, bisogna parlare una lingua oggettivamente italiana. La via di San Giuseppe appartiene sul 100% del totale, circa tra il 30 e il 40% al comune di Monte Carlo, il resto al comune di Alto Pascio. Abbiamo fatto tutti quelli che sono... Allora è colpa del Sindaco? No, no, assolutamente. La colpa qui è del patto di stabilità perché sappiamo benissimo e noi monitoriamo con Maurizio Marchetti la situazione, lui ha fatto il progetto, è capofila di questo progetto, ha fatto la gara, ha fatto l'appalto, deve farsi sbloccare dal patto di stabilità le risorse necessarie. Occorrono più di 100 mila euro per rifare questo tratto di strada che è in buona parte proprietaria del comune di Alto Pascio e in una parte, tra l'altro la migliore, nelle proprietà del comune di Monte Carlo. È un intervento sul quale si è spesa con serietà l'amministrazione di Alto Pascio, noi ci crediamo nella parola dell'amministrazione di Alto Pascio e quindi sono sicuro che sono già partiti degli interventi per quanto riguarda il comune di Alto Pascio in queste settimane, sono sicuro che Marchetti sbloccherà più presto anche la via di San Giuseppe e quindi in primavera si spera di poterla rivedere come dovrebbe essere. Precisa e ordinata. Sindaco, nelle ultime settimane lei spesso si è fatto vedere in posa, diciamo così, da sindaco operaio, da sindaco lavoratore, da cittadino che va direttamente a risolvere i problemi concretamente. Parlo proprio di interventi di manutenzione all'interno del suo comune. Che messaggio voleva lanciare con questo tipo di lavori? Ti ringrazio, è un messaggio che lancio tutti i giorni. Io se c'è una cosa che ritengo che sia nociva con tutto quello che c'è nella disaffezione con la politica, con l'amministrazione pubblica è la lotta al degrado, a questa lotta contro il nulla che avanza, a tutto quello che in qualche maniera sporca l'immagine non solamente di un territorio ma anche di una società. E se c'è una cosa che io posso fare di fronte anche chiaramente al supporto che posso dare alla mia macchina amministrativa che è sottodotata per quanto riguarda gli organici che in qualche modo soffre anche di questa esigenza di supporto che è anche di una vicinanza di carattere pratico, ma forse funziona anche perché sono le comunità più piccole quelle in cui si riesce a incidere in questo senso, di poter trasmettere l'idea che tutti assieme si risolve il problema più grande che abbiamo dintorno casa, che è quello della non curanza, che è quello della mancanza di rispetto che va dalla lattina lanciata dal finestrino della macchina, al cartello stradale di Belto piuttosto che a un albero che non viene potato e compagnia. Quindi siccome vengo costantemente incentivato a fare questo tipo di attività dai miei concittadini che mi dicono qui non viene nessuno, qui non si fa nulla, la risposta non può essere sempre quella di legare conto terzi. È bene una volta per settimana capire sul campo come stanno le cose e ad operarsi. Perché qualcuno ha sostenuto che era soltanto propaganda per farsi fotografare e farsi poi Ma assolutamente, le elezioni le avevamo già vinte, quindi non c'era che c'era da rivincere un'altra volta, quindi era una cosa che abbiamo fatto in benissimo buona fede. E allora ci interrompiamo per qualche secondo, c'è la pubblicità, torniamo tra pochissimo con Vittorio Fantozzi e le vostre domande. E siamo di nuovo in diretta con il sindaco di Montecarlo, Vittorio Fantozzi, stanno continuando ad arrivare le domande da parte dei telespettatori e quindi ripartiamo subito con le domande. Buonasera sindaco, c'è la possibilità della creazione di un bel parco giochi a Montecarlo? Grazie Dania. Sì, ci sono due tipi di progetti, uno a più a breve termine e uno a più a lungo termine. Quello più a breve termine lo ritroveremo all'interno della Fondazione Pelleghini Carbignani, quindi di quello che era il giardino delle suore del nostro convento. Speriamo che, fra virgolette, anche per quanto riguarda il bilancio del 2015, tutto in lavorazione, si possano avere le risorse necessarie a dotare il parco di giochi che non costano una bazzecola, perché devono essere giochi che resistono solo alle condizioni atmosferiche, ma anche a un utilizzo molto forte dei ragazzi di oggi, che quando si scatenano è la fine. E sono giochi che vanno a un costo indifferente, dal Cavallino, da 2.000 euro all'Altalena, che supera le 4.000, 4.500 euro, chiaramente a trovarli sul mercato elettronico, perché abbiamo anche questa fortuna oggi, per cui il materiale deve essere disponibile per la pubblica amministrazione online. L'altra è quella dell'organizzazione dell'area verde che è sul fondo di Piazza Darmi. Però, per dare una risposta che abbia minimo di concretezza, lavoreremo all'interno del Paese, in quello che era il giardino delle suore stimatine nella Fondazione Carbignani. Allora, Sindaco, in attesa delle prossime domande, andiamo un po' a parlare di politica. Perché facciamo un paio di conti del centro-destra e di sindaci in provincia di Lucca, siete rimasti in pochi. Abbiamo fatto il conto prima, siete quattro, lei, Marchetti, Giannini e Puglia, se possiamo definirvi di area di centro-destra, comunque di provenienza di quell'area lì. Faccio una domanda retorica, come se lo spiega? Sono i quattro dell'avemaria, probabilmente, me lo spiego perché resistere all'ondata d'urto renziana sicuramente non è stato gioco facile, soprattutto ne chi votava nel 2014. Probabilmente perché in determinati momenti sappiamo anche dimostrare che l'amministrazione del territorio e del buon governo del territorio può venire anche da una formazione politica che non è quella che sta in una visione di centro-sinistra. Monte Carlo, Alto Pascio da lunghissimo tempo, lo sappiamo, fabbriche di Vergemoli, oggi alla guida di Giannini e Puglia, probabilmente hanno fatto in modo e in maniera che per le rispettive comunità si creasse, se non un consenso di carattere politico, un consenso di carattere fiduciario che permettesse di interpretare e di poter rispondere tranquillamente a quelle che sono le esigenze quotidiane. Io ho questo onore da parte della comunità di Monte Carlo e cerco di essere tutti i giorni non il sindaco di centro-destra di Monte Carlo ma il sindaco che i montecarlesi vogliono su a Palazzo. Guardandola da fuori, guardandola dal punto di vista politico, è chiaramente una fotografia drammatica, direi, che ci siamo ampiamente meritati grazie alle scelte che non rispondono chiaramente a noi quattro primi cittadini ma a tutti coloro che ci sovrastano e che sono a questo livello ormai autorappresentativi. Quindi questo, se vorrei essere più chiaro, direi che sono dei morti insepolti. Addirittura? Sì, vorrei essere un po' d'annunziano, così forse anche loro la fascia serale ce lo consente. Senta, ma in regione contro Rossi chi candidà? Io avrei candidato Marchetti, avrei candidato il sindaco di Attopascio perché, così, naturalmente, per le esperienze che ha maturato nella zona della Lucchesia e a livello regionale è l'uomo che probabilmente se avessero fatto scegliere dal basso avremmo potuto indicare tutti come un nostro referente, considerata anche l'esistenza degli altri referenti a livello locale che negli ultimi cinque anni non abbiamo mai sentito né visto. Quindi, chiaramente non è così perché nel centro-destra non sceglie il popolo, non succede come nel PD al quale va il mio miglior plauso e il mio plagio quando purtroppo si parla di indicazioni dal basso. Se dovesse dare un indicazione dal basso indicherai Marchetti, non posso indicare, e quindi la partita a livello regionale oggi io credo sia fra decidere se perderemo 5-0 o 8-0. Io può anche darsi che la vinca questa partita perché chissà che vada a fare. Rimaniamo allora su questa frase, però senta, sul livello regionale dei partiti di centro-destra, il coordinamento di Forza Italia in questi ultimi anni, lei che cosa ne pensa? No, sono esperienze da ritenere, penso, concluse, ma questo va al di là del rispetto, della stima personale per la persona. Qui lei mi chiede una considerazione politica, io ti faccio una considerazione politica. E il gioco è finito, si tratta solamente di trascinarlo in avanti, basta vedere oggi la drammatica esecuzione in diretta fatta nei confronti di Fitto, e ora vediamo che succede con questa finta opposizione interna, per cui anche Fitto per me lascia un po' il tempo che trova. Ma lei è con Berlusconi contro Berlusconi? No, io sono per il popolo italiano, proprio. Io in questo momento sono un anarcopatriota senza tessera, lo sono da tre anni, quando mi sono sfaldato dentro il PDL perché pensavo che si potesse maturare un'area moderata, che potesse dialogare col PD e non ce l'hanno consentito. E quindi oggi mi trovo a fare un anarcopatriota, a lavorare per i miei concittadini, e anche con i miei colleghi sindaci nella Piana e nel resto della provincia di Lucca per migliorare il territorio provinciale. Quindi io oggi faccio questa vita perché è anche il mio dovere politico e istituzionale. Però a livello di centro-destra tutto è da resettare. E resettare vuol dire a casa tutti quelli che ci sono arrivati ora, non voglio fare Salvini, ma il ragionamento è esattamente questo, e fare partecipare nuovamente dal basso tutti, senza regole e senza ma. E in questo senso ci stiamo anche organizzando. Qualcuno avrà delle sorprese. In che senso? In che senso che probabilmente quando si capisce che non si ha più motivo di rimanere all'interno di un partito o no, perché qui ormai la testa non fa più nessuna differenza. Ognuno può continuare a giocare dove oggi, fra virgolette, la situazione, il contesto contemporaneo l'ha posizionato. Però la necessità probabilmente è quella di tornare a parlare di politica fra di noi, cosa che nel centro-destra non si è più fatta. E probabilmente dovremmo adottare il metodo francese dell'89. Quindi una bellissima probabilmente autoconvocazione di tutti coloro che non vogliono rimanere, fra virgolette, senza un'area di riferimento popolare moderata, e probabilmente di lì ricominciare da zero, perché solamente da zero si può riconquistare la credibilità che abbiamo straperso, e meritatamente straperso, fra i cittadini lucchesi e nel resto della regione e del paese. Ma lei parla di un'iniziativa che parte proprio da Lucca, dal territorio lucchese? Certo, deve partire dalla regione toscana, deve partire da Lucca, dalla Valdinievo e dalla Pistoia, dove negli ultimi venti anni avevamo dimostrato un grandissimo risponso nei confronti del pubblico, del cittadino lettore, che abbiamo saputo tradire, illudere e ingannare in tutti i modi, rimanendo oggi in quelle realtà che lei prima ricordava. Ci sono ancora nel cittadino lucchese, ma anche toscano, l'idea che è un'opposizione, ma se non un'opposizione è un modo di pensare diverso, debba essere rappresentato. Va ricostruito questa rappresentanza, ci sono ancora le energie, ci sono ancora le capacità, bisognerà sacrificarsi e farsi veramente un bel viatico nel deserto, però è quello che viene richiesto un po' alla mia generazione, che già è fuori luogo per quanto riguarda le problematiche del lavoro e dello sviluppo di questo paese, lo sarà anche sotto il profilo politico ed è una partita che va accettata. Torniamo sul nostro territorio, con una domanda che ci arriva da una telespettatrice, Elisa. Buonasera Sindaco, è possibile migliorare lo stato della Via del 13? La strada è molto frastagliata. Sì, la strada di Via del 13 potrebbe essere la base per un romanzo di Dan Brown, nel senso che bisognerebbe venire qualche volta a prendere documenti in comune e capire come la Via del 13 è stata potuta asfaltare senza essere sotto preparata per l'asfaltatura. C'è addirittura una causa in corso che risale sempre ai tempi dell'asfaltatura, che oggi è ridotta a un brandello, la strada di Via del 13, dove continuiamo a non pagare la ditta in oggetto. Ci sono i nomi e i cognomi di coloro che diedero il via a far asfaltare quella strada perché oggi risultasse il macello che conosciamo. I cittadini hanno visto che durante l'ultimo anno abbiamo riuscito a rifare alcuni piccoli tratti di questa strada dove veramente eravamo fuori da ogni condizione di carrabilità. Progressivamente nel tempo l'intenzione è quella di rifare anche la Via del 13. Quindi questo è un impegno da prendersi e non è questione di farlo o di non farlo, è questione di avere le risorse a momento giusto da poter investire. In questo senso ci stiamo organizzando. Le casse del comune sono in perfetto ordine, stiamo riprogrammando gli investimenti, anche in Via del 13 lavoreremo. Poi ci sarà da chiedersi se è il caso di tenerla a doppio senso o a senso unico. Ma qui ne parleremo chiaramente con i cittadini. Gentile sindaco, buonasera. Volevo chiedere se in futuro sarà possibile creare un'area per lo smaltimento dei rifiuti possibilmente fuori dalle mura. Sicuramente fuori dalle mura. Quindi questo è fuori di dubbio. Stiamo rilavorando la zona della fornace. Abbiamo avuto una riunione con il direttore dell'Ascit, Roger Bizzarri, col quale ci lega un grandissimo rapporto di collaborazione e di franchezza, direi anche, per quanto riguarda questo tema. E ci ha presentato il primo progetto per la riorganizzazione a area della fornace. Stiamo valutando i costi, stiamo valutando le necessità. Perché sapete che sull'accolto dei rifiuti, al di là che noi ci troviamo oggi con Ascit, e facciamo la lotta al sacchetto dell'indifferenziata, l'evoluzione a livello regionale è paurosa e bisognerebbe anche qui veramente che qualcuno prendesse qualche volta il tempo per leggersi qualcosa online perché se ne trovano di belle e di più. Però di fatto ci stiamo lavorando e l'idea è quella probabilmente di tornare, tra virgolette, ai santi vecchi ma con un po' di evoluzione, a quella che era l'area della fornace, trasformata in un nuovo punto di raccolta, dove addirittura si possa fare il punteggio, di assommare un punteggio a seconda delle cose che si portano, cercare di guadagnare anche qui un po' di risparmio in bolletta. E si tratta solamente di capire ora sotto il profilo ambientale se l'area è chiaramente ancora da consentirsi idonea. Quella che le faccio ora è una domanda che sicuramente non si aspetta, perché riguarda il suo cane. Eccoci. E la fa Valentina. Signor Sindaco, lei ha un bellissimo cane di nome 21. Volevo sapere come mai l'ha chiamato così. Perché il 21 del... A parte che il 21 era un cane che avevo in tenera età e bisogna risalire un po' alla filosofia del mio babbo per dare nomi, perché si passa da nomi esotici come il 21, a poldo, bijou, rinti, no? In memoria di rintintin. Io l'ho chiamato il 21 perché il 21 è stato anche il giorno beato, un tempo in cui mi ero accompagnato con una ragazza. Quindi l'idea di fondo sostanzialmente era che una volta che potessi aver ripreso un pastore tedesco, tutto per me, tenendolo per me, che oggi è l'unica cosa che ho di proprietà personale, quindi io come proprietà fisica ho il cane, di richiamarlo come quel cane che mi accompagnò dalla culla fino a 14 anni, quando poi ci ha lasciato. Quindi questo sarebbe il 21 bis, Valentina. Lo puoi venire a trovare a San Salvatore tutti i giorni, dall'8 al mezzogiorno, dalle 3 alle 6 e ti aspetta. Ecco, perfetto. Abbiamo dato anche l'appuntamento a Valentina. Ora, è arrivato anche un complimento, io le leggo soltanto questo perché i complimenti non ci piace molto leggerli, comunque è di Marcella, sindaco serio, equilibrato e per bene, pieno di buona volontà. Meglio di così, questa parte non la poteva chiudere. Ci fermiamo per la pubblicità, poi riprendiamo con le prossime domande. A tra poco. Di nuovo in diretta con il sindaco di Monte Carlo, Vittorio Fantozzi. Continuano ad arrivare le domande. Sindaco, la vedo particolarmente in forma stasera. Sì, non so che ho, però va bene, non faccio abuso di sostanze di nessun tipo, probabilmente la serata è... Una serata frizzante. Continuiamo a tenerla frizzante con le domande dei nostri telespettatori. Un telespettatore le chiede se sarà fatto qualcosa per la pinetina della scuola materna. La pinetina della scuola materna è stata recentemente disboscata dagli elementi che erano pericolosi. Penso che lo spettatore abbia visto gli interventi degli uomini in scimmia, che sono un reparto speciale che abbiamo sul territorio per quanto riguarda questo tipo di interventi. Però, siccome il discorso è serio, nella pinetina della materna si ritrovano da primavera e da generazioni, i nostri ragazzi più piccoli, c'era la necessità appunto di fare un'opera intensa di disboscamento. È molto probabile che sia stata fatta quella della prima fase e debba seguirne una seconda. Bisognerebbe che avessi qui con me, a fianco, il mio inseparabile assessore Galligani, che sono questi uomini, e lo stesso Carmignani Marco, che quando c'è da fare, da diventare uomini in scimmia, diciamo, sono i primi, no? Non si arrampicano sugli alberi, però sono coloro che mi seguono direttamente questi tipi di aspetti. Probabilmente nelle prossime settimane, se il lavoro non è compiuto, sarà portato a termine. Sicuramente l'ho vista avviata. Ascolti questa domanda perché si ritorna sulla politica. Fantozzi, ma lei è renziano, per intraprendenza e lucidità politica assomiglia molto al Premier. È anche un complimento. Lei l'accetta? Perché in effetti qualche tempo fa lei venne dato come renziano. D'ambile, è chiaro. Io seguivo Renzi da assessore quando, con i soldi dei fiorentini, organizzava un programma da presidente della provincia, e parlava ogni sabato di quello che organizzava come provincia. E lo portavo come esempio nella mia amministrazione, io mi volevo candidare a sindaco, come non si dovesse aspettare 40 o 50 anni per poter fare il sindaco di Monte Carlo, figuriamoci, c'era il presidente della provincia che ne aveva tre più di me all'epoca. E io l'ho seguito e lo seguo tuttora in tante di quelle che sono le sue evoluzioni, e magari ne posso interpretare a livello generazionale alcuni leitmotiv, come la necessità di fare presto le cose, se sono fatte bene chiaramente, di dare sempre una spinta diversa a determinati aspetti della vita politica. Poi però ci distinguono chiaramente diverse cose. La prima è che lui è un fiorentino e sono un lucchese. Ma la vedremo comunque presto nel Partito Democratico? Sarà difficile, non ci vogliono poi. C'è stata una sorta anche di raccolta firma a Monte Carlo, perché stessi lontano anche dai seggi delle primarie del PD. Quindi, come si può? Torniamo alle domande sul territorio. Cosa intende fare con l'ormai incendiata zona dei comunali? Tra l'altro monumento di ricordi popolani, passeggiata estiva non indifferente ed ex polmone verde. Assolutamente, ciclicamente ogni vent'anni è stata vittima di questo incendio che si sa essere doloso, ma poi non si è mai trovato l'elemento del dolo. Cosa c'è da fare? Stiamo seguendo quella che è la prassi che ci è indicata dal 2011 e da quella che era la comunità montana e poi dalla regione toscana. In realtà stavamo valutando anche che il tipo di flora, fra virgolette, che ha accompagnato un po' lo sviluppo dei comunali, forse diverso ormai da quella che storicamente era sul territorio circa 100 anni fa. Comunque l'idea è quella di rimboschire, quindi di lasciare naturalmente a verde quell'ambiente lì, però di valorizzare probabilmente meglio anche ai fini di protezione civile, quelli che sono i percorsi all'interno. Dov'è la difficoltà? Che quando siamo andati a mappare le proprietà di quella zona, si parla di 30 ettari di bosco bruciato nel 2011, tantissime, e chiaramente il fuoco prese bene anche perché i boschi non erano perfettamente curati, sono in proprietà che non si ritrovano più, chi è in America, chi è morto, non sono stati fatti, tra virgolette, non dico erogiti, ma non sono stati consegnati a proprietà nuove. Ed è una situazione di difficoltà nella quale interverremo anche a livello di piano strutturale di prossima approvazione. Allora, questo è un periodo caldo in argomento di impianti per la telefonia mobile, ne sanno qualcosa a Lucca, anche a Capanduri e a quanto pare anche a Montecario, perché è arrivata questa domanda. Perché l'antenna della telefonia mobile è stata messa nel centro abitato del Turchetto senza aver chiesto il parere diretto degli abitanti? Questa purtroppo è una domanda mal posta, mi dispiace per il cittadino, ma nel 2011 prese fuoco la polemica per quanto riguardava gli impianti di telefonia sul territorio e nel 2011 fu individuata l'area del Turchetto in un'area dove sia per la radiazione elettromagnetica che per il posizionamento si mantenevano sotto controllo tutti i profili in questo senso. Non lo sceglie il comune dove si mette un'antenna, sono le compagnie in merito al tipo di traffico che hanno sul territorio se decidono di fare l'investimento. La risposta che fa capire questo mio argomentare è perché per esempio non c'è un'antenna a San Giuseppe o non c'è a Luciani piuttosto che a San Piero, perché le compagnie telefoniche vanno chiaramente dove trovano il reddito da parte di coloro che avendo magari più di una sim in casa poi si divertono come si fa tutti o a navigare o a utilizzarlo chiaramente per fine lavorativo. Quello che dobbiamo fare nei confronti del Turchetto è aperta una discussione con i cittadini quando sono venuti a dirci lì non ci piace, abbiamo già intrapreso grazie anche ai rappresentanti di un comitato che si è posto sul territorio la necessità di doverla spostare e di dover controllare con ancora maggiore attenzione quelle che sono le emissioni radio. Le antenne non garbano anche a me, figuriamoci se mi devono garbare le antenne, però ci sono, l'importante è tenerle sotto controllo e anche se è possibile proprio per accontentare tutti, anche dal punto di vista paesaggistico tenerle a distanza dai centri abitati, finché si può chiaramente. Ci può anticipare qualcosa sul prossimo piano strutturale? La domanda è firmata da Luca. Luca, la questione è chiara, noi non ci discostiamo da quelle che sono state le premesse del 2002, quindi la difesa a oltranza della nostra peculiarità ambientale che tutti oggi in Lucchesia possono riconoscere tranquillamente andando su Google Map e vedere dov'è l'unico polmone verde nella piana di Lucca, è a Monte Carlo. L'idea è quella di fare in modo in maniera che questa difesa che ha reso superba, ma anche nei numeri notevole, la qualità della vita e anche del patrimonio edilizio che abbiamo sul territorio comunale di Monte Carlo possa passare da quello che è un elemento di tutela assoluta a valorizzazione. Quindi fare in modo in maniera che Monte Carlo si contraddistingue sia un valore aggiunto in Lucchesia sotto il profilo sia, tra virgolette, della qualità della vita per i suoi concittadini, ma al tempo stesso sotto il profilo dell'accoglienza turistica e perché no anche del benessere sportivo poter intercettare tutte quelle che sono le richieste che possono venire dalla società sia Lucchese che Valdignevolina. Quindi probabilmente faremo in modo in maniera che sotto il profilo anche di quelle che magari sono le offerte sportive o di carattere turistico non d'eccellenza, ma quello che è Nostrano, quello che vogliamo noi, che è quello agrituristico di eccellenza, possono fare di Monte Carlo un ambiente che è curato anche proprio perché attraverso la sua cura, il suo decoro, cresce l'indotto economico del territorio. Questa domanda riguarda un esponente della sua giunta. Quale futuro politico per il suo assessore Paciscopi? Le sue scelte in termini di turismo e promozione lasciano intravedere per lei un grande futuro? Non so se sottintende che potrebbe essere il prossimo candidato magari per fare il sindaco a Monte Carlo. Lascio la risposta a lei. L'assessore Paciscopi che oggi è anche vice sindaco penso che si stia dando l'affare in maniera incomiabile come tutti gli altri colleghi dell'amministrazione che lavorano magari in reparti o in settori dove magari la cosa immediata si nota diversamente. Sono sicuro che per quanto riguarda le scelte sul futuro saranno i montecardesi a indicare da loro come hanno sempre fatto, poi qual è l'elemento che deve contraddistinguere chi guiderà il comune nella figura di sindaco. Di fatto però è un lavoro che viene ben accompagnato sia per quanto riguarda il settore del turismo o dell'agricoltura o del commercio che sono riuniti nelle deleghe di Angelita e al tempo stesso nelle deleghe che tutti gli altri hanno dove si danno da fare come dei dannati. Questa è la cosa migliore che ho sul campo, una squadra di dannati. Torniamo con una domanda alla questione di piazza d'armi perché c'è questo telespettatore che ci chiede quando dovrebbero iniziare i lavori. Ora io non mi ricordo se lei ha accennato anche alla tempistica. Sì, qui cerco di essere renziano ma davvero e si cerca di partire, dovremmo partire entro la fine del mese di febbraio. Abbiamo tre mesi di lavoro sul campo, vogliamo essere pronti per l'inizio della bella stagione. Quindi, fine di febbraio, se il buon tempo ci accompagna anche un po' il Signore, perché comunque il Signore è una parte fondamentale, probabilmente per la buona stagione, per il maggio divinaria, per la grande estate montecarlese dovremmo avere in batteria questa nuova grande opera che darà una piacevolezza e anche un'accoglienza diversa a chi si presenta nel centro storico di Monte Carlo. In merito all'asfaltatura del tratto di strada di San Giuseppe che lei conosce benissimo, può dirci qualcosa? Grazie Maricetta. Come dicevo prima, siamo tutti in attesa, ma in attesa io direi tranquilla e lealissima con l'amministrazione di Alto Pascio che i vincoli del patto di stabilità, stiamo tutti facendo i bilanci sul 2015, consenta all'amministrazione di Alto Pascio che è capofila del progetto, che è già realizzato ed è già appaltato, possa partire per investire sul tratto della strada. Noi abbiamo le nostre risorse pronte, Alto Pascio aspettava le proprie, io sono sicuro che appena c'è la possibilità Maurizio Marchetti, sindaco, darà il via insieme a me all'opera di rifacimento. Abbiate pazienza. È anche un appello al sindaco Marchetti. Abbiate pazienza, no, ma lo fa, lo fa. C'è un altro complimento, lei ha inventato una bellissima manifestazione, Via Vinaria. Quest'anno ci sarà e se sì, quando? Io non l'ho inventata, Via Vinaria, si faceva da tantissimo tempo. Io l'ho ripensata riportandola dal centro storico all'interno delle cantine e se non c'era qui il supporto dei produttori non saremmo riusciti a farne quell'evento che è oggi. La faremo. Credo che sia anche questa ancorata al penultimo weekend di maggio, quindi la domenica successiva al nuovo passaggio delle Mille Miglie da Monte Carlo, che per il secondo anno consecutivo scelgono di passare dal centro storico di Monte Carlo. dovremmo avere questo weekend dedicato a Bacco, proprio nel penultimo weekend di maggio. Con una domanda torniamo sulla questione della criminalità. Abbiamo già risposto, almeno in parte, cosa può fare per contrastare la criminalità ai sempre più frequenti reati predatori? La domanda è firmata da Stefano. L'è mai venuta la tentazione di cercare di promuovere le ronde come fece a suo tempo il suo collega Marchetti Alto Pascio? No, forse erano contesti anche diversi e forse Maurizio più che una ronda intendeva un'altra cosa, ma chiaramente quando poi lo avrete qui risponderà bene lui. Io sono culturalmente contrario al concetto di una ronda. È qualcosa di pericoloso, soprattutto se mettiamo per strada gente come il sottoscritto, che non sarebbe, al di là del servizio militare negli alpini, poi potrebbe perdere il controllo delle situazioni in determinati momenti. Siamo riusciti invece a veicolare con il colonnello fedele, che saluto, il progetto del controllo del vicinato, che è un po' la risposta che faccio a questo concittadino, che è quello di supportare al meglio con tanta fatica l'opera delle forze dell'ordine. Dico con tanta fatica perché in realtà viene chiesta al cittadino un sacrificio in più rispetto a una quotidianità che già lo sta pressando. Lavoro, tasse, moglie o marito, insomma figlioli. Oltre a questo, la necessità del contesto attuale richiede di guardarsi intorno a casa e segnalare per tempo magari qualcuno o qualcosa che nella quotidianità non c'entra assolutamente niente. Una macchina ferma che non si conosce, il tipo losco che gira o che fa finta di essersi perso. Sono tantissime le cose, però sono anche quelle che funzionano perché ricordate che i reati predatori fatti nelle nostre case non vengono fatti a bingo. La gente viene a studiarci, vede quello che facciamo, a che ora lo facciamo, qual è la parte più vulnerabile di casa e poi quando non ci siamo interviene in maniera netta e chiaramente da specialistica e riesce a entrare in casa a fare danni che sono non predatori, sono di più, qui siamo a livello proprio di barbarie tradizionali italiano e quindi a produrre quei danni che dicevo prima che sono impagabili, non c'è assicurazione che tenga, quando ti distruggono il mobilio di casa o fotografie o oggetti di una vita o di generazioni è un qualcosa che non sono le 300 euro o l'oro che ti possono portare via di casa, ti portano via quello che c'hai di più caro e per me è una cosa che è inaccettabile, per nessuno è accettabile. Ci dobbiamo di nuovo fermare per la pubblicità, poi l'ultima parte del nostro programma con le altre domande che stanno arrivando ancora per il sindaco Fantozzi a tra poco. Riprendiamo la nostra diretta con il sindaco di Monte Carlo Vittorio Fantozzi come spesso accade uno degli argomenti più gettonati è quello della viabilità delle strade da asfaltare delle strade da riparare e quindi la prossima domanda riguarda ancora questo argomento. Buonasera signor sindaco volevo sapere se per via della pace sono in programma dei lavori firmato un abitante. Sì, nei punti che conosciamo che conosce sicuramente anche il telespettatore il concetto è questo via del 13 via di San Giuseppe che è la priorità assoluta la via colmata le strade le conosciamo le frequentiamo le giriamo tutti i giorni stiamo mettendo insieme quello che è un investimento che ci dovrebbe garantire nel 2015 o nel 2015 la maggior parte di risanare quelle che sono le situazioni più ad alto a pericolosità fra virgolette laddove chiaramente la toppa non si può fare non serve più è solamente un metodo per prendere tempo via della pace nei punti più particolari anche via della pace chiaramente ci sarebbe esigenza dell'illuminazione ma mi auto fare le domande è un punto dove andare a intervenire abbiate pazienza perché interverremo anche su via della pace allora qui c'è una una persona che vuole il libro di Monte Carlo quello che è stato fatto e il messaggio inizia così una tirata d'orecchia al sindaco non pensa che sarebbe giusto donare il bellissimo libro di Monte Carlo anche a chi ha un'abitazione e paga le tasse al comune non solo ai cittadini residenti anche se non ci abito più sono Monte Carlese Doc saluti Enzo allora Enzo gli darò la mia copia personale lo aspetto a un comune quando vuole però un libro che siamo riusciti a realizzare per metà del contributo grazie a Santa Madre Fondazione Cassa di Risparmio e metà andandola a vendere io per un totale di 30.000 euro che sono andato a vendere di libri io e anche sindaco venditore venditore personalmente credo che il fatto che i cittadini di Monte Carlo abbiano la più grande opera a liberare su Monte Carlo senza che sia costato un centesimo a bilancio del comune sia un risultato caro Enzo domani o quando vuoi passa dal comune di copia ti do la mia libro assicurato e lei rimane senza allora faccio come a Faenza tutto senza trattata da mio padre è tanto tempo che sentiamo parlare di Fontanelli ma quando avete intenzione di attivarli firmato Massimo B caro Massimo B sabato mattina alle 11.30 sei invitato a Turchetto per l'apertura della prima Fontanella presentati dimmi sei Massimo B magari un B particolare vieni una mezzo litro non te la toglie nessuno l'acqua frizzante vai come mai via di Poggio Baldino non riviene fatta ma via di Poggio Baldino si può considerare come strada veramente il nostro il nostro Vietnam è una strada probabilmente l'ultima volta la devono aver asfaltata i Romani quando ci sono passati sotto ci sono i sassi grandi così praticamente dovremo intervenire in questa settimana qui a sanare una situazione che ci aspetta da mesi a Gossi e l'altra che ci aspetta sulla via di Poggio Baldino ma sulla via di Poggio Baldino la stiamo meditando un po' perché vorremmo vedere se una volta tanto riusciamo nel momento in cui fossero necessarie delle risorse sono tantissime le risorse necessarie per quella strada anche a preparare la stesura eventuale se non della fognatura del gas in alcuni tratti la cosa è allo studio abbiate pazienza ma via di Poggio Baldino è veramente un qualcosa che ci costerà tantissimo e chiaramente va fatta perché è una strada che ha una caratterizzata è una corsia e mezzo praticamente più del cerchio ai lucchesi più del cerchio ai lucchesi e forse è per quello che non si fa da tanto tempo però anche questa è una strada che ora ob torto collo va rifatta quindi non è neanche che sia nell'argizione è una cosa che va fatta allora quando prendiamo poi l'argomento strade non finiamo più c'è anche via della poltroniera trovate la soluzione per gli incidenti ci dice questo telespettatore sì ora io ho intenzione di mettermici qualche mattina fermo con un cartello a dire alla gente di andare piano si sono succeduti negli ultimi periodi tre quattro incidenti uno più pericoloso dell'altro ora io ho parlato con la polizia municipale con i carabinieri l'idea è quella di incentivare ancora di più la segnaletica orizzontale ma nulla 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 sostituisce la segnaletica orizzontale e il verticale quando è l'italiana al volante che è uno sbandato che per far presto tra andare e tornare non sa stare al volante la problematica è anche questa la pericolosità della strada va talvolta in proporzione e non faccio cifre non è che faccio il professore ma è così è direttamente proporzionale all'incapacità dell'italiano di stare al volante perché sono stati fatti di incidenti lì dove veramente cioè c'è da essere Steve McQueen quando si sta al volante però chiaramente quando si sta al volante si tengono domani sul volante magari non si sta al telefono o non si fanno altre cose lì veramente è anche incapacità di stare al volante però ripeto per andare alla risposta del cittadino rafforzeremo ulteriormente la segnaletica orizzontale a livello di strada dossier non possiamo far nulla il codice della strada ce lo nega questo libro di Monte Carlo deve essere veramente bellissimo perché le chiedono dove è possibile acquistarlo prima il sindaco beve e poi ci risponde ma per l'acquisto io vi rimando la PubliEd cercate il numero del telefono non so se la PubliEd ne ha delle copie che possono essere messe in vendita il comune non può vendere non può intascare io non ho diciamo l'arma contabile alla mano ma lei li ha venduti ha detto io li ho venduti agli sponsor perché potessero coprire la realizzazione del progetto quindi li ho venduti e lo sponsor l'ha fatto in modo in maniera che tornasse l'opera editoriale nel suo complesso per comprarlo però direttamente una copia mi dà una copia? bisogna chiamare la PubliEd e quindi chiamate chiamate questa casa editrice buonasera signor sindaco sono in programma iniziative per incentivare i giovani alla ricezione turistica il turismo è uno dei dei polmoni più forti per l'economia del comune di Monte Carlo la porta ai giovani in comune è aperta io non ho le risorse per incentivare l'apertura di nuove cose se non promuovendo eventualmente dei contingentamenti sui suoli pubblici piuttosto che su altre cose ma non a livello di tassazione non ho le risorse come potrebbe avere un comune di più ampie dimensioni però dal punto di vista dell'appoggio che l'amministrazione può dare per sfiancare la burocrazia per procedere scelermente per inserirsi in un circuito virtuoso che è quello del centro commerciale naturale del consorzio del vini noi siamo a disposizione non è un caso ci diceva prima noi collaboriamo strettamente a contatto con le categorie produttive non è un punto di mandato è una concezione proprio di carattere squisitamente politico avete intenzione di attivare un servizio di trasporto pubblico per le frazioni verso il cimitero e il capoluogo domanda firmata da una concittadina questo sì questo sì tra breve firmeremo finalmente il rinnovo del trasporto pubblico locale con i comuni di Porcari e Altopascio i nostri fratelloni il nostro amico Baccini e il nostro amico Marchetti all'interno di questo rinnovo l'amministrazione ha studiato e metterà a disposizione anche un circuito interno che faciliterà i nostri cittadini soprattutto io penso non solo le mamme ma anche i cittadini più anziani un collegamento diretto fra le frazioni e il capoluogo e chiaramente col capoluogo gli uffici pubblici e chiaramente anche al nostro cimitero ma non per mandarci dal cimitero perché per noi Vivinaia è il luogo della nostra memoria e tutti i montecarlesi sono lì Caro sindaco programmi per limitare la velocità in via provinciale per Monte Carlo domanda firmata da Michele e torniamo di nuovo a parlare di strada e quindi di sicurezza stradale Allora la problematica che abbiamo sul nostro tracciato per quanto riguarda la provinciale romana richiamandosi al decreto Maroni mi sembra del 2008 non ci consente di posizionare diciamo una macchinetta fissa per l'autovelox tanto per essere chiari non c'è il tracciato così ci rispose la prefettura nel momento in cui già nel 2009 2010 ponemmo il quesito attraverso la polizia municipale nel consueto annuale appuntamento dove si fanno le richieste perché il ministero le valuti è una battaglia che va combattuta con le tre amministrazioni insieme all'amministrazione provinciale ora non ci sarà più neanche quella chiaramente quindi rimarremo in tre e continuare a farlo con quello che sono l'incentivo delle pattuglie ricordandoci che poi della multa una parte fino ad ora oggi veniva intascata una parte del comune una parte della provincia domande non lo sappiamo però per limitare la velocità che è la sostanza della domanda che mi viene posta dovremmo continuare a farlo con gli strumenti a disposizione delle polizie municipali stazione e macchina accanto allora questa è una domanda molto puntuale buonasera signor sindaco nello spazio giochi esterno della materna c'è la possibilità mi è sparita la domanda perché ne è entrata in gioco un'altra comunque di sistemare il terreno in questo spazio giochi della scuola della materna sì io credo che l'ufficio tecnico abbia valutato con l'intervento degli uomini scimmio come vi dicevo prima per la putatura degli alberi che abbiamo lì anche una risistemazione dell'area a terra mi sfuggono in questo momento i particolari tecnici che sicuramente sta seguendo l'assessore Galligani e sicuramente ne ha informato anche l'assessore con delega protezione civile Marco Carbignani se mi può ricontattare su facebook questa cittadina o in comune io domande le so dare risposte più puntuali allora qui c'è un gioco di parole di un telespettatore comunque in sostanza torniamo a un argomento dei giorni scorsi proprio di ieri con la voce che il presidente Berlusconi avrebbe proposto Massimo Mallegni come candidato a sindaco a scusi a presidente della regione toscana in vista delle prossime elezioni e chiede il suo parelli lei che cosa ne pensa di questa idea è un lucchese ha mal operato quando ha fatto il sindaco io credo che qualcuno oggi lo rimpianga un pochino probabilmente lo vorrebbero più a Petrasanta che a Firenze io lo vedo ben in entrambi i ruoli e dopo quello che ha passato mi sembra al minimo che il riscatto del centro-destra possa partire anche da coloro che sono stati vittime di episodi che poi alla fine si sono rivelati veramente delle bolle di sapone pagate a caro prezzo Allora siamo veramente in dirittura d'arrivo le faccio delle domande a cui le chiedo delle risposte il più possibile rapide situazione di bilancio del comune di Monte Carlo Rosea io credo che il bilancio del comune di Monte Carlo ha messo la prova dei fatti sia rispetto ai bilanci di tantissimi altri comuni italiani veramente a prova di lavacolo lustrale informatevi presso la Guardia di Finanza che vi posso dire o la Corte dei Conti ma io credo che l'opera che abbiamo intrapreso di riordino dei conti dal 2011 e oggi ci abbia consentito e ci consentirà di fare tutte le opere che stasera i montecarlesi richiedono da tempo e di cui la responsabilità resta a me se non sono ancora state fatte chiaramente argomento vino perché è uno dei più importanti per quanto riguarda Monte Carlo che stagione è come sta andando il mercato la produzione noi abbiamo la famosa legge di Caniole per cui ci si contenta in realtà la situazione è un po' quella che conosciamo tutti le battiglie del vino tante volte restano in cantina però il Monte Carlo si difende ancora bene e sono sicuro che con le opere di promozione che stiamo definendo ora insieme al Presidente del Consorzio Carmignani con l'assessore Paciscopi con tutti i produttori faremo in modo e maniera che sempre di più il vino di Monte Carlo torni a essere il vino sulle tavoli dei Lucchesi questo è un po' l'obiettivo di fondo che ci teniamo tutti essere il vino di casa nostra Ultimissima domanda proprio sul filo di lana firmata a Luisa che idee avete sull'ex scuola di San Salvatore? se esisteranno le AS vedremo con chi parlare fra poco sicuramente avremo delle aree che sono dedicate ancora all'associazionismo locale e altre dedicate a spazi ambulatoriali per fare venire i vecchi dottori della mutua anche a far visita popolazione di San Salvatore Ok, con questa domanda abbiamo esaurito il nostro tempo grazie al Sindaco Fantozzi che ha risposto molto scelermente e puntualmente a tutte le domande grazie ai telespettatori ci rivediamo tra sette giorni con Diretta Sindaco Grazie a tutti